ciao a tutti amici in questa ricetta pesce spada e asparagi dei begli asparagi del giardino molto grossi ai quali levo la parte più coriacea che sarebbe la corteccia guardate come sono grossi però effettivamente la corteccia rimane un po coriacea quindi la levo e poi li taglio in due in modo così da avere dei pezzi abbastanza lavorabili taglio un po di pomodoro che ho lasciato passire ogni tanto prendo qualche spiega di pomodorino ciliegino la lascio appesa in modo così da appassirsi leggermente e ne acquista in dolcezza infatti i pomodori appesi sono tipici dell'area mediterranea ecco qua un bel pesce spada un bel filetto di pesce spada al quale levo la la pelle ovviamente le fette sono molto sottili quindi il più sottile possibile perché poi le avvolgerò con con gli asparagi gli asparagi li passerò leggermente in padella per ammorbidirli in modo da non essere eccessivamente duri quindi un fondo di olio extravergine d'oliva due spicchi d'aglio e poi metto gli asparagi ad ammorbidirsi non uso nient'altro a parte un po di sale e pepe e un goccino d'acqua questo mi permette di lasciarli integri al naturale senza usare il burro ma solamente un po d'acqua e olio extravergine d'oliva quindi li ammorbidisco chiaramente la punta la lascio un po più rigida perché la parte più tenera si può mangiare anche crudo mentre la parte inferiore dell'asparagi che avevo sbucciato la lascio andare un po di più in padella ecco adesso aggiungo un fondino d'acqua e poi copro e con un po di vapore che che si crea ammorbidisco gli asparagi ecco qua una rosolattina l'aglio dà un bel sapore e copro il tempo relativo perché è a vista dipende molto dalla grossezza dell'asparago quindi sono da controllare di tanto intanto rigirare e vedere un attimo qual è il grado di cottura a me piace lasciare le punte abbastanza morbide ma non eccessivamente mentre la parte inferiore del tronco preferisco cuocerla un po di più adesso posso levare le punte che sono già pronte però vedete rimangono sempre abbastanza compatte e rigide sono praticamente saporite invece tronchetti li lascio un po di più sempre coprendo così il vapore riesce ad ammorbidire ora sono pronti anche i tronchetti li levo è su questa base metto i pomodorini perché mi servirà il sugo per cuocere gli involtini ecco qua levato tutto l'aglio lo lascio ancora che da sapore vedete non si è praticamente di un dito perché è roba veramente di pochi minuti ora col pomodoro anche questo lo giro dalla parte del taglio così riesco a tirare fuori più polpa possibile più sughetto possibile copro e lascio a fuoco moderato a passire i pomodori gli schiaccio un po così esce tutta la polpa e metto anche qualche fogliolina di timo qualche ramettino di timo copro e spengo perché alla fine non deve cuocere moltissimo quel sughetto deve rimanere sempre abbastanza dolce e fresco adesso passiamo all'involtino fetta di spada un pizzico di sale un po di olio extravergine d'oliva e due asparagi due pezzi di asparago e non faccio altro che avvolgerli ecco qua molto semplice li avvolgo e poi li fermo con uno stecchino è chiaro che per fare questo lavoro occorre una fetta di spada abbastanza grande o meglio un trancio di spada grosso che si può affettare in maniera molto sottile il più sottile possibile perché poi deve appunto avvolgere il l'asparago di nuovo un po di sale facciamo nuovamente l'altro in voltino un po di olio extravergine e due asparagi ecco qua lo spada si presta molto bene a fare questi lavori perché ha una fibra molto elastica e quindi si riesce a piegare bene ed anche in cottura rimane sempre fermo adesso il sughetto l'ho ripreso e non faccio altro che poggiare gli involtini guardate la densità perfetta un pizzico di sale ulteriore e metto giù gli involtini chiaramente essendo molto sottile lo spada l'interno è già cotto il tempo di cottura è vicino ai cinque minuti in tutto quindi due minuti per parte rigirandoli ora un po di quel sughetto che mi è rimasto nel piatto di preparazione lo metto e appena si rigidisce guardate come si sbianca ecco qua è sbiancato quindi è già cotto e si rigidisce quindi tiene fermo completamente l'ivoltino guardate come si gira velocemente e facilmente perfetto quindi due minuti per parte un minuto e mezzo dipende molto dal grado di fuoco che si ha una sfumatina con un po di vino bianco e ci siamo sono praticamente quasi pronti poi se c'è da migliorare la cottura sui latti che hanno preso meno calore una giratina un controllo però è tutta una cosa molto rapida ecco qua c'è da girare perfetto copriamo per qualche secondo dopodiché si può portare in tavola ecco qua guardate un po spettacolo guardate come è rigido non è asciutto perché lo spada non ha subito uno stress termico importante un filo d'olio extravergine guardate come al centro uno spettacolo stravanato l'asparago all'interno rimane molto croccante e dolciastro anche si sposa benissimo col pesce a spada vi consiglio di farlo questa ricetta perché adesso siamo in periodo di asparagi sono molto belli e poi anche molto molto carina la presentazione di un piatto in questo modo un saluto alla prossima